Allora sono qua sul desktop del mio computer e avendo installato in CAD Components, che è la Rapid Design della Mizumi, ho quest'icona, dunque cliccando due volte col tasto sinistro entro dentro nel Mizumi Rapid Design in CAD Components. La mia versione è la 2.8 che vale per Solidors 2019, 20, 21 e 22. Naturalmente bisogna qui cliccare come si dice, la username ID che uno usa nella registrazione di Mizumi, dunque lo stesso con cui uno entra nel website di Mizumi, la passo, adesso faccio l'incolla e poi faccio ok. A questo punto mi dovrei loggare, vediamo, ok qui la prima volta, io faccio agree, ok, cookies e così via, ok, faccio agree, vediamo se riusciamo a entrare, ok, e dunque io, va beh, questo autologin, non è che lo sappia usare, è la prima volta che lo uso, dunque dopo vedremo, ok. Comunque fondamentalmente questo è il modo di loggarsi, di entrare nell'applicativo di Mizumi dove io posso scaricare tutti i componenti qua elencati. Va beh, ci vediamo alla prossima, arrivederci.